ecco sarà un breve youtube anche questo mostrerò una fotografia io salì in questa montagna di tonara è impossibile salire senza funi ci vogliono le funi per salire ok serve benissimo avevo fatto un paio di fotografie anche questa sempre quella montagna è un po difficile a salire senza funi e questa è la montagna una foto panoramica eppure sono le prove come io sono salito nella montagna senza funi è una montagna molto alta non so quanti metri è di altezza però mia zia noi saliamo con le funi c'è una croce sopra questa è una foto panoramica si vede bene web cam non è che possa inquadrare bene vabbè quindi resta anche un mistero come uno possa essere salito in una montagna altina come quella senza funi è difficile anche arrampicarsi completamente eppure sono salito e sono sceso pure dalla montagna sono salito perché qualcosa mi ha detto sali vicino alla croce e scatta delle foto ma io pensavo di non come qualcosa che mi ha detto così come potrebbe essere un santo o qualche tipo di cosa io sono salito in quella montagna e ho scatto quelle foto la montagna risulta è molto alta è la più alta che ci sia a tonara di montagna quindi una montagna molto alta eppure sono salito senza funi è incredibile ma vero ok grazie di aver seguito nel youtube grazie a tutti